Dopo la Pasqua cattolica è tempo di quella ortodossa celebrata nell'Europa orientale. La luce di Pasqua con cui si accendono le candele nei paesi ortodossi europei arriva da Gerusalemme. Qui il sabato santo discende il sacro fuoco nella chiesa del Santo Sepolcro tra le mani del patriarca Teofilo. Per la prima volta nella Repubblica della Macedonia del Nord anche la chiesa ortodossa macedone si è unita alla condivisione del sacro fuoco. In Serbia i fedeli si sono riuniti nella cripta della cattedrale di San Sava. La messa è stata ufficiata dal patriarca Irinei. Dopo il rito solenne nella cattedrale di Mosca celebrato alla vigilia dal patriarca Kirill, tutte le città della Russia hanno festeggiato la ricorrenza religiosa più sentita nel paese. È la festa della resurrezione la più gioiosa dell'anno. È il giorno in cui non smettiamo di sorridere e proviamo una gioia incredibile. Festeggiamo in maniera tradizionale, cuciniamo dolci pasquali e dipingiamo le uova. È una vera cerimonia, porta felicità e gioia, purificazione e leggerezza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!